un saluto cari amici oggi siamo qua per provare e testare degli strumenti diciamo un poco strani vedete già dalla dalla inquadratura stiamo parlando di strumenti sailor serie o coro è una cosa abbastanza nuova che si è da poco sul mercato mi era stata segnalata da dal mio buon amico maurizio capriccio e niente ero stato curioso poi di provarli lui gentilmente mi aveva poi fatto arrivare questi strumenti da da stile e stile me ne aveva ordinati lì e poi mi sono arrivati qua da me a torino e lui mi aveva parlato bene quindi ero curioso di provarli anche perché si tratta di strumenti diversi dalle stilografiche qua siamo un po nel mio campo elettivo stiamo parlando di strumenti a intinzione praticamente no abbiamo queste quattro tipologie di penna intinzione dove abbiamo qua la prima vedete qua vi arriva con questo piccolo cartolato nulla di che è una cosa molto semplice e anche gli strumenti sono tutto sommato molto semplici davvero sono anche abbastanza piccolini perché se li confrontiamo con una penna qua una gina 1 5 9 vedete che si tratta di strumenti abbastanza corti e abbastanza piccoli comunque qua abbiamo un pennino fude poi abbiamo un italico uno stab diciamo più che altro da 2 mm di di punta poi c'è dalla punta da 1 e poi una punta fine ok io li ho provati tutte quattro diciamo che quelli che mi hanno dato maggiore diciamo gioia di scrittura sono questi due qua il fude che veramente eccezionale secondo me e anche quest'altro diciamo non è male quella punta da 2 gli altri si vanno bene ma innanzitutto dovete capire che poi per dare maggior serbatoio e autonomia di scrittura vedete questi due portano già il montaggio di una condotta no che ha proprio una vera e propria funzione di serbatoio questi altri due non ce l'hanno bisogna poi acquistarla a parte insomma una cosa che secondo me avrebbero dovuto mettere già un sailor di default perché senza condotta non si riescono quasi ad utilizzare ok perché sono comunque punta cioè non sono pennini propriamente intenzione che hanno delle caratteristiche anche proprio geometriche che mi aiutano l'adesione per tensione superficiale dei liquidi al corpo del pennino quindi diciamo dovete prevedere se li volete l'acquisto costa poco a 2 euro 50 mi sembra la scusate la condotta tra le altre cose una cosa che va anche detta no onore del vero perché diciamo per quello cioè gli strumenti vanno molto bene ma non vi aspettate chissà cosa come 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 oggetto nel senso che si tratta di plastiche molto molto easy semplici molto molto tranquille niente di che poi sono state pensate proprio per un uso intenzione cioè sono dei pennini da stilografica montati su cannucce diciamo intenzione nel senso che se volete cambiare colore di inchiostro altre cose qua diventa molto più semplice perché lavate semplicemente non avendo un'alimentazione e lavate il pennino sotto l'acqua corrente un minuto lì uno spazzolino e potete cambiare inchiostro questo per tutte e quattro le punte poi ha questa peculiarità che quando avete finito di lavorare lo riponete vedete c'è lo scattino lo riponete così quindi nessun problema di non vi si rovina il pennino quindi non hanno il cappuccio ma hanno questo sistema carino che vi consente di insomma salvaguardare le punte poi nulla di che se loro insomma queste cose qua io in maniera molto molto semplice me le facevo in casa da tempo quando ne ho ad esempio una cannuccia da bibita insomma con quattro cavolate mi faccio le mie cose una vecchia condotta di una gina o qualche qualche penna del genere ecco andiamo a vederla più da vicino e gli ho montato sopra un pennino che mi piaceva detto un pennino sempre uno stab una punta tronca quindi la condotta esattamente come per questi altri mi fungeva da serbatoio poi ultima ultima cosa prima di passare delle prove di scrittura che lo farò solo con queste due così per non provarle tutte insomma proviamo solo queste due che sono anche quelle che come vi ho già detto prima sono quelle che mi hanno dato maggiori soddisfazioni calligrafiche per quanto riguarda la scrittura siamo in un range di costo sui 14 15 euro che secondo me non è proprio propriamente pochissimo per quello che offrono cioè quindi grande confortevolezza di scrittura ma poca ricchezza proprio per quanto riguarda l'assemblaggio la costruzione di questi strumenti su cosa sono realizzati non possiamo non dire tutte le cose giuste sailor mi propone a circa 20 euro queste qui che sono delle stilografiche quindi anzi c'è anche questa questa costa un po di più sui 30 quindi 30 20 qua siamo sui 15 euro tra queste queste la differenza è veramente minima anche se a un order vero devo dire che il pennino fude di questo qui a intinzione non è propriamente come questo montato sulle stilografiche qua si trovano avevo già fatto delle prove con queste hanno il pennino con l'angolo di attacco sul supporto di scrittura 40 55 gradi qua non è proprio lo stesso pennino e secondo me va va meglio ok diciamo un pennino molto più performante a me è piaciuto veramente molto ecco questo vale la penna ok questo qui questo è niente un classico pennino diciamo tronco però questo questo pennino fude è veramente secondo me eccezionale adesso lo vedremo cose veramente eccezionale però appunto chi desidera chi non ha l'esigenza di cambiare inchiostri o che può prendere una stilografica di queste la paga quasi come questa ma diciamo queste hanno il loro cappuccio non non insomma sono sono delle vere stilografiche ok invece chi vuole giocare diciamo un po di più con inchiostri altre cose gli consiglio questa qui ma a prescindere questa la consiglio proprio perché veramente è una penna eccezionale adesso andiamo a vedere prima la punta tronca poi passiamo a questo pennino fude allora testiamo la testiamo con un noce moscata di leonardo l'inchiostro che mi piace molto come tinta allora in questo caso qua dobbiamo fare quando intingiamo dobbiamo far pescare proprio la condotta no per capillarità un po di a certo punto si riempie non non tira più o allora a questo punto la scarichiamo ecco il pennino a questo punto è pronto per la scrittura e hanno tutta una buona riserva di scrittura nel senso che magari mi mi porto su un livello di zoom maggiorativo eccoci qua è ancora bella carica vedete ancora abbastanza carica e posso fare insomma il pennino mi segue bene non c'è nessun problema insomma sono pennini sailor quindi insomma la loro ecco adesso si vede anche meglio il colore vedete quindi ne posso fare insomma due due millimetri comincia a diventare già una punta abbastanza importante quindi quello fatto in gestuale quella facciamo la posata formale l'autonomia di scrittura è veramente ragguardevole ah era fuori campo scusatemi parto poi per la tangente non guardo cosa combino ok scusate niente lo vedete è un piacere scriverci non c'è nessun problema è l'accortezza di avergli montato quella diciamo condotta appunto a tergo del pennino mi consente veramente di scrivere veramente a lungo perché ho un'autonomia di scrittura che insomma ha tutta la sua valenza e anche qua diciamo può essere comodo poter usufruire di una punta che posso lavare facilmente e insomma sostituire poi il mio inchiostro con altri colori quindi in tutta tranquillità no quindi molto molto poliedriche come punta proprio per questo motivo qua poi ehm questa svasatura mi impedisce ehm più di tanto di di andare giù le dita certo c'è un po' la pochezza di un manico veramente misero insomma 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 si poteva fare veramente qualcosa in più non tecnicamente costruttivamente non mi offrono una penna superlativa diciamo eh sicuramente la la stereografica ha un altro pregio però eh qua si deve valutare la 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 facilità d'uso e anche il fatto insomma che sono facilmente trasportabili non si rovinano eccetera no adesso andiamo però a vedere l'altro penino rifiude che è veramente eh decisamente eh molto più rock di questo qui allora stessa tecnica no avviamo un po' il campo stessa tecnica quindi immergo faccio pescare e anche qua vado avanti veramente per tanto tempo una volta che faccio la carica eh la penna ci scrivo veramente per tantissimo tempo ok eccolo qua e questo sì eh questo lo trovo molto divertente qua i suoi 15 euro li vale tutti proprio solo anche il pennino no perché perché dà soddisfazione veramente allora cominciamo col dire che questo pennino lavora magnificamente in posizione reversa adesso deve deve partirmi un attimo ma vi posso assicurare che è un tratto talmente sottile che ecco comunque sì trivole un po' la macchina la webcam a prenderlo ma è veramente ma è molto molto scorrevole no è proprio è molto è molto bello usarlo proprio quindi quindi è una scorrevolezza avrete un livello di finezza eccezionale poi come tutti gli fude insomma vi permette di al variare al variare della quindi se lavoro vedete adesso un po' più spesso di quello quando siamo quindi qua siamo su un fine poi man mano lo porto giù e lui mi aumenta il tratto scendo ancora un po' e lo portiamo a livello massimo insomma quando lo sdraio in posizione diciamo normale ecco diventa veramente ma sempre con una precisione l'odevolezza di tratto proprio vedete che insomma c'ho scritto molto ma posso andare veramente ancora scusate ancora avanti parecchio accorciamo il campo ecco oltre questo posso ancora ecco la sdraio proprio al massimo ecco qua vedete che è ancora ricco il flusso ok posso posso quindi sono tanti range perché sono uno questo qua super fine qua uno due tre quattro cinque sei insomma sono cose cos'è insomma che sui pennini la cosa che rilevo è l'unica cosa ecco avesse avuto anche quella sarebbe stato un super pennino non ho un po' di flessibilità ma non tanta però insomma i segni orientali sono insomma steppende sono nati un po' più più che altro per fare queste cose piuttosto che queste ma insomma anche le nostre cose occidentali le fa molto bene avesse avuto però un po' di flessibilità perché appunto nei campi verticali un po' ce l'ha però riesco con molta fatica a farlo insomma quando ho fatto questa prova con la il fudo di Leonardo mi riusciva molto più semplice però non è che posso pretendere chissà cosa stiamo parlando di un pennino che costa veramente poco rispetto a quell'altro almeno insomma tante volte di più costa l'altro quindi ci mancherebbe che l'altro non vada anche meglio però questo qui tra i pennini diciamo economici sicuramente mi consente delle cose eccezionali sicuramente ben superiori ai suoi fratelli qua che nonostante tutto sono ottimi la variabilità è solo cioè se voglio una stilografica forse mi conviene questa cioè se se uso un solo colore vado avanti solo con quel colore allora compratevi questa perché una vera stilografica è ed è molto simile comunque a questo pennino eh non è che questo fa schifo e questo è buono questo però è leggermente questo qua è leggermente più performante no? questo va detto in maniera significativa perché io di questo consiglio veramente l'acquisto e anche dell'altro che abbiamo visto qua questi due valgono l'acquisto sicuramente no? per divertirvi poi se magari questi due vi piacciono talmente tanto eh potete valutare anche l'acquisto dei successivi però questi due secondo me sono assolutamente irrinunciabili quindi niente con questa prova la chiudiamo qua questa prova la chiudiamo qua ottime penne sei loro insomma si dimostra sempre un ottimo costruttore di strumenti da scrittura insomma questi semplici oggetti sono qui a testimoniarlo un caro saluto a tutti grazie come sempre di esserci stati ciao a tutti grazie grazie